Ciao ragazzi, welcome back, Stefano Parenti, Personal Trainer a Londra. Oggi andremo a fare un nuovissimo episodio del Q&A, domanda e risposta, dove andremo a analizzare tutte le vostre domande nel dettaglio. Quindi prenderò delle domande che mi sono state fatte nei precedenti video, soprattutto, anche domande fatte su Instagram. Quindi andremo a vedere nel complesso come approfondire questi determinati quesiti riguardanti questi video. Siamo arrivati a 200 iscritti, sono molto contento, vi ringrazio tantissimo per il vostro sostegno e spero che da adesso in poi arriveremo anche a mille. Questo è il mio nuovo obiettivo, arrivare comunque a mille iscritti, sarebbe eccezionale. Prima di iniziare voglio salutare Michael, Michele, che è un ragazzo che sto seguendo e sta migliorando tantissimo. È passato da una scheda d'allenamento che era 5x5 ad una scheda d'allenamento fatta appunto dal sottoscritto. I risultati? Pochissimo tempo, brevissimo tempo, ci stiamo allenando neanche da un mese insieme e già possiamo vedere più dettaglio muscolare. Era mancante comunque del petto alto, adesso sta crescendo, anche il petto basso comunque si sta deleniando. Bravo Michele, continua così, sta andando alla grande e mi raccomando, continua ad allenarti con questa intensità perché il ragazzo si allena in maniera molto intensa. E io sono testimone perché ogni volta che si allena, la maggior parte della volta che si allena mi manda anche dei messaggi audio che ha il fiatone, lo sento che, oddio, questa scheda mi sta uccidendo. Però è questa la direzione giusta. Bravo, continua così. Detto questo, andiamo ad iniziare il nostro Q&A. Mi sono appuntato appunto alle vostre domande. Per quanto riguarda la prima, epistane, perché non lo raccomando ai beginners o a coloro che non hanno mai utilizzato una sostanza anabolica in vita loro? Come dicevo nel video, è un compound molto forte, è effettivo e dà progressi già dalla prima settimana. Quindi, se una cosa ti dà progressi entro la settimana, lo sconvolgimento, ma anche dell'umore, del morale, ti sentirai più attivo. Se tu non sei abituato a sentire questo kick degli anabolici, parti da un kick estremo ad un kick che può essere sensibile, non è semplicissimo da gestire. Molti pensano che sia una cosa semplice da gestire, ma non lo è. Potrebbe portare anche delle problematiche, anche dal punto di vista dell'umore, dell'aggressività e tutte queste cose. Quindi, io personalmente non lo raccomanderei a beginners, perché prima devono fare esperienza, assaporare cosa voglia dire il kick e poi dopo progredire. Perché poi non sappiamo mai cosa potrebbe succedere, potremmo reggire bene o potremmo reggire male. Non si sa. Quindi io non lo raccomando in maniera assoluta. Seconda domanda. Cardarina in una fase di definizione poi aumenta e mantiene la massa muscolare? Cardarina non è un anabolico, è un brucia grassi. Quindi non si curerà minimamente di mantenere la vostra massa muscolare. Dobbiamo associarci un anabolico, un anabolico anche lieve, che ci possa far mantenere la massa muscolare in una fase di deficit. Questa è la realtà. Se noi andiamo con cardarina, andiamo in un deficit calorico, ciò che faremo è solamente dimagrire. Noi dimagriremo in maniera costante, scenderemo in percentuale di grasso, ma non andremo mai a mantenere la massa muscolare. Poi dipende come noi andremo ad impostare la dieta e l'allenamento. Possiamo anche non usare un anabolico. Possiamo anche stare ed essere natural, 100% è solo associare cardarina. Ma tutto dipende come noi impostiamo il nostro allenamento, la nostra alimentazione, in modo tale che possiamo mantenere la massa magra. Ovviamente se noi passiamo da 2.500 a 1.800 kcal al giorno, quello che faremo è perdere velocemente grasso e conseguentemente anche la massa magra. È automatico. Se noi invece passiamo da un passaggio graduale, le chance di mantenere la massa magra, anche senza l'utilizzo di un anabolico, sono più alte. Quindi questo è un altro punto essenziale. Con che SARMS inizio e che cosa devo aspettarmi? I SARMS, con che SARMS inizio dipende, dipende da dove tu sei, da che livello fitness hai, da quante esperienze hai in palestra, da quante... Non c'è un SARMS base per iniziare, dipende soprattutto dalla propria esperienza che si ha in palestra. I SARMS comunque non danno un kick molto forte, non danno un kick alto, almeno che non andiamo a fare degli stack. Stack, però se noi parliamo di singoli compound, anche LGD, Ligandrol, se noi abbiamo un'adeguata esperienza in palestra e le prendiamo solo LGD, Ligandrol a solo, non ci darà quel kick enorme che ci distruggerà, ci cambierà l'umore e via discorrendo. Il discorso è diverso se andiamo comunque a fare degli stack. Stack dipende anche dalla nostra sensibilità ai compound. Quello che io notoriamente consiglio è di iniziare a vedere con Ostarina, ma non vale per tutti, perché comunque Ostarina può dare dei guadagni veramente lievi e minimali. Non c'è un SARMS generale, ok, tutti quanti dovrete iniziare con questo e poi andare su quell'altro. Dipende sempre da voi, dal vostro caso, dal vostro caso personale, ragazzi. Non c'è modo per stabilirlo senza vedere le vostre foto, senza conoscere la vostra personale esperienza in palestra. Non c'è un modo. Poi, un argomento che voglio portarvi molto breve, con questo poi chiuderò il video, è di alcuni trainer, non faccio nome anche perché non li conosco, che raccomandano a ragazzi giovanissimi di iniziare a fare dei cicli, me lo sono appuntato, di Sustanon, Trembolone e Winstroll. A ragazzi che non hanno mai provato anabolici in vita loro e si apprestano per la prima volta ad utilizzare questi tipi di prodotti. E' da pazzi ragazzi, non fatelo, non pensateci neanche. Dovete pensare, che poi posso anche farci dei video su Sustanon, Trembolone e Winstroll, ma dovete pensare che Sustanon dà un kick selvaggio, ti senti indemoniato dentro il tuo corpo, ti senti veramente pieno di te, veramente puoi spaccare tutto, andare in palestra e spaccare tutto. E' un kick alto, sono tre tipi diversi di testosterone nel tuo corpo, per chi non è abituato, vai matto, vai crazy. Trembolone è lo stesso, kick assurdo, non considerando il fatto che poi Trembolone e Winstroll sono estremamente epatossici, combinati insieme, che informazioni diamo a questi ragazzi, andiamo a distruggere la vita di questi ragazzi, va bene che andiamo comunque a prendere le protezioni, quel che volete, post cycle therapy, ma ricordate che una volta intrapreso questo percorso, il vostro livello ormonale sarà segnato per sempre. Perché queste sostanze, specialmente associate tutte e tre insieme per una prima volta, sì ti aiuteranno a prendere guadagni muscolari altissimi, potentissimi, ma poi dopo, dopo cosa fai? Devi comunque mantenere quella direzione per tutta la tua vita, se vuoi tenere i guadagni che quei prodotti ti hanno dato. E noi sappiamo che comunque gli steroidi non è che uccidono a breve termine, è nel lungo termine, nei 10-15 anni che ti colpiscono. Per non parlare poi l'effetto, scusate, sulla linea dei capelli, che molti mi chiedono, ah ma io sono preoccupato dei capelli. Anche Rich Piana, Rich Piana disse in un'intervista che suo padre aveva milioni di capelli, anche lui comunque finché è morto aveva capelli. Diceva che comunque con Trembolone, Sustano, tutte queste sostanze, le tonnellate, delle cose che prendeva, i suoi capelli si assottigliavano, si stavano assottigliando, anche ad una persona che non è geneticamente predisposta nel perdere i capelli. Trembolone è molto aggressivo sulla linea dei capelli, è molto harsh. Vale la pena prenderlo? Non vale la pena prenderlo? A parita di risultati, ovviamente, risultati, non c'è niente che tolga il primato a trenna. Ma poi è sempre quello il discorso. Un anno, due anni in forma, tre anni in forma, quattro anni in forma, e poi gli effetti collaterali vengono lì e ti bustano alla porta. Vale la pena? Secondo me non vale la pena. Vale la pena, secondo me, crescere in maniera costante, proprio a dire nel tempo, anche inserendo degli anabolici che noi gestiamo e che possiamo monitorare. Quello, secondo me, vale la pena fare. Non avere fretta di avere tutto e subito, ma di costruirsi, costruire il proprio corpo. Con questo spero che il video vi sia piaciuto. Grazie ancora per i 200 iscritti. Commentate, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e noi ci vediamo alla prossima.